Domenica 12 giugno alle ore 20, palla 2 di gara 1 della finalissima di Serie B per salire in Serie 2 tra la Leo Filchman Roseto e la Riviera Banca Basket Rivini. Presidente Ernesto Ciaffardoni, intanto come ci arriva Roseto a questo grande appuntamento? È stata una settimana molto dura con gli allenamenti sotto gli ordini di coach Danilo Quaglia, però ecco, c'è tanta tranquillità nell'ambiente rositano. Ma è stata un'annata molto dura perché ci sono state problematiche, siamo stati bravi ad uscirne fuori, ci prepariamo, siamo coscienti, consapevoli, siamo carichi perché vogliamo raggiungere l'obiettivo. Quindi i nostri ragazzi sono, oserei dire, già abbastanza pronti oggi mercoledì, abbiamo altri giorni che ci separano la domenica, aspettiamo gli amici di Rimini, amici perché la società di Rimini è una società vicina, amica della Baracanessa Roseto, in quello che è l'immagine dello sport. Quindi verranno accolti nella nostra cittadina, verranno i tifosi, però ripeto, noi siamo molto pronti, molto carichi per portare a casa i risultati. Presidente, pre-vendita biglietti che è già iniziata in un paio di giorni, però c'è già tanto, possiamo dire, trepidazione tra la cittadinanza rosatana. Ci si aspetta un grande pubblico domenica. Beh, gara tre, gara quattro ad Ancona hanno avuto per protagonisti, oltre ai giocatori, i nostri tifosi. Il rientrare dopo il 3-1 domenica scorsa qui al piazzale del Palamaggetti e trovare più di cento tifosi è stato un grandissimo segnale. Vuol dire che tutto quello che è stato seminato da quando la Baracanessa Roseto ha ricominciato, è riniziato nell'estate del 2020, tutto quello che è stato seminato è stato accolto bene, perché è stata sempre raccontata la verità. Abbiamo sempre detto la verità a tutta la città di Roseto, a tutti i tifosi di Roseto. Domenica e martedì ci guideranno loro e poi piano piano penseremo a gara tre a Rimini.